La crisi è ancora tutta da fronteggiare o il 2011 coinciderà con l'inizio della ripresa? La CGL Ionica stila un bilancio del mondo lavorativo territoriale e si prepara ad affrontare le tante vertenze in corso. Un primo dato giudicato da brivido è quello relativo alla cassa integrazione giunta a un record storico. L'anno passato ha registrato il fatto che si sia ricorso alla cassa integrazione a Taranto per il 250% rispetto all'anno prima. Ricordo che l'anno passato registrammo 7.000 posti di lavoro in meno rispetto all'anno precedente. Non è che nel 2010 la condizione sia migliorata. Non abbiamo ancora tutti i dati, però purtroppo abbiamo avuto un 2010 che appunto non è stato migliori anzi. Bene il fatto che la regione annuncia un piano per il lavoro, a tutti i livelli, compreso quello locale, con la consulta per lo sviluppo, dobbiamo convogliare le nostre energie per fare in modo che tutti i processi che ci sono in atto di investimento sia pubblico che privato siano calendarizzati nella maniera più opportuna possibile. Penso ai finanziamenti già ottenuti con la piastra logistica, ma anche alle ingente risorse che imprese come l'Eni, la Cement, l'Ilva potrebbero investire e credo debbano investire il più presto possibile. È probabile che il 2011 segnerà una ripresa del comparto dell'acciaio con la riapertura di settori dello stabilimento Ilva. Di certo i tagli previsti dal governo provocheranno conseguenze negative per i lavoratori e per l'utenza. Metà degli infermieri di Taranto non vedrà confermato il proprio contratto. A rischio molti dipendenti delle pulizie scolastiche, i precari somministrati all'Inps di Taranto, i dipendenti del porto, quelli di Teleperformance che potrebbe spostare un'importante commessa in Albania.